Il Generale Gribus è qui. Siamo perdendo l'area! Andate sul posto e difendetela, subito! Il Generale Gribus è iniziale! Godetevi i vostri ultimi momenti, Fetcher! I separatisti stanno capturando l'obiettivo! Dove credite? Forse soffremmo lasciar fuggire i superstiti! Ci guideranno per l'uomo! I separatisti stanno mettendo la sicurezza l'obiettivo! Vengo a prenderci! I separatisti hanno iniziato a capturare l'obiettivo! Non lo so, non lo so! Siamo passati! Mesmo la intuazione! La te bomba! Perciò rispire! Siamo passati! I separatisti stanno catturando L'obiettivo I separatisti stanno prendendo 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 l'obiettivo I separatisti송 I separatisti stanno prendendo l'obiettivo Ah! 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 Devo forza di non avere ancora il mio valore! Vengo a prenderti! Ah! Ah! Vaglio video! Vaglio video! Faglio video! Vaglio video! State solo rimandando l'unitimità! 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 Il trasporto vi aspetta! State solo rimandando l'unitimità! State solo rimandando! State solo rimandando l'unitimità! State solo rimandando l'unitimità!